Eccola qua, come ti chiami? La nocchia. La nocchia? La nocchia? Senti la nocchia, andiamo a fare un girino. Ero con la mia padrona nel tempio di Pria. Beh, cosa vuoi da noi? Ah, io niente, ma la mia padrona è fuori di sé per il delitto che avete commesso. Vittorio. Ah, ciao. Sorrellino. Bentornato. Compagno brigadiere, tu che hai l'ingrato compito di spiare illegalmente la nascita della rivoluzione italiana, sei anche tu uno sfruttato, un figlio del popolo. Unisciti a noi, o perlomeno chiedi un aumento di stipendio. Sul distributore ci sono le impronte di mezzo a Milano. Uno che ammazza così, ha dell'altro sulla coscienza, oppure è matto? È tutta la città che sta diventando una gabbia di matti. E noi siamo il bersaglio del tirassegno. Tre poliziotti, 50 lire. Riformato. Ma come? Dopo 12 mesi di nai a lei mi riforma. Tu per me sei clinicamente morto. Dico, 8,50 di glicemia, diabete fulminante. Vattene a casa e muori tranquillo. Ma sai una cosa? Quando sto con te mi sento più solo di quando sono solo. Perché penso a quando te ne andrai. Ti prego, dimmi qualcosa. Ti prego, amore. Siccome la mia fidanzetta, la mia topola, metti il giallo, metti il verde, ci siamo ingassinetti. Ma cos'è che dice questo? Ha detto che abbiamo ragione noi, caro signore. Ah sì, eh? Digli o la mamma quello che ho fatto con i carabinieri, sono stata una tomba, è vero? Certo, una tomba, tu sei una specie di cadavere. Sto scornacchiato. Vossi, vossi, disgraziato. Ma ruba. No, ma non le vieni qua. Certo, è il tuo amichetto. Tu non hai nessuna prova. Merda di un piede piatti. No, ma non le vieni qua. 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 Ma non le vieni qua. No, ma non le vieni qua. 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 Ma non le vieni qua.